Usando degli enormi martelli si sono fatti varco nell'esercizio commerciale distruggendo le vetrine d'ingresso. Quattro individui sono entrati in azione nella notte poco dopo le 3.30. Ad essere preso di mira per la seconda volta dopo appena otto mesi il negozio di abbigliamento Moda Si che si trova a Racale in via Giuseppe Mazzini. Arrivati con ogni probabilità in quattro si sono poi introdotti nell'esercizio commerciale in tre mentre uno ha atteso fuori per agevolare la fuga. Una volta all'interno hanno fatto razzia di abiti ed accessori griffati sistemati all'interno di grandi lenzuola per poterne trascinare fuori il più possibile. Il valore della merce è ancora da quantificare ma si aggirerebbe intorno a diverse migliaia di euro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Casarano che adesso conducono le indagini per dare un volto ed un nome agli autori del furto. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza di cui l'attività è dotata. Sul posto anche il titolare un 54enne della zona. Un'attività presa di mira più volte l'ultima solo otto mesi fa. Anche in quel caso, nottetempo, entrarono in azione con ogni probabilità quattro individui che utilizzarono un'auto, una Fiat Panda di colore bianco come Ariete, poi a seguito delle indagini effettuate dai carabinieri risultata rubata. Una volta all'interno riuscirono ad impossessarsi di merce per un valore di 10.000 euro. La banda, in quel caso, si dileguò a bordo di un SUV di colore scuro.